Un settore di investimento che ha battuto l'azionario globale negli ultimi 30 anni e lo ha fatto con molto meno rischio del classico azionario globale. Sembrerebbe essere il sacro graal dell'investitore, ovvero sia abbassi il rischio, rischi di meno, soffri meno drawdown e addirittura ottieni maggiore rendimento. È stato possibile? È stato possibile. Si può ottenere questo obiettivo anche in futuro? In futuro cercheremo di capirlo all'interno di questo video analizzando il settore di investimento di cui ti sto parlando e cercando di capire se lo devi inserire all'interno del portafoglio o se invece non fa per te. Ma prima di tutto lanciamo la nostra sigla. Benvenuti amici miei all'interno del mio canale in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di settori di investimento e anzi andiamo ad analizzare un settore, ce l'ho qui davanti i trend di questo settore, che ha regalato agli investitori performance veramente molto interessanti negli ultimi 30 anni e lo ha fatto soprattutto con un premio per il rischio veramente molto elevato. Che cosa intendiamo noi per premio per il rischio? Significa il rendimento che abbiamo ottenuto a parità di rischio o analogamente il rischio che abbiamo sostenuto a parità di rendimento. Ricordatevi sempre che noi ragioniamo in termini di rischio e rendimento. I valori del nostro portafoglio devono essere sempre risk adjusted. Ma quando parliamo in termini di rischio e rendimento lo possiamo sia stabilire a parità, lo possiamo sia definire a parità di rischio che a parità di rendimento. Per esempio l'indice di Sharpe ci dice il rendimento ottenuto per unità di rischio. Questo settore di investimento per l'appunto che a breve sveleremo ha ottenuto un rendimento maggiore dell'azione globale. Ma non soltanto lo ha fatto con... ma lo ha fatto addirittura con un rischio minore. Quindi sostanzialmente nel classico grafico rischio e rendimento si è spostato sempre più verso l'alto a sinistra che è il nostro ottimo apparete... il nostro ottimo fondamentalmente raggiungere punti sempre più in alto verso sinistra nella nostra frontiera efficiente. Quindi si è addirittura mosso più avanti della frontiera efficiente parlando di un'ottimizzazione proprio finanziaria del portafoglio. Il problema è capire se questo settore lo possa fare anche per il futuro oppure no. Di che settore stiamo parlando? Del settore healthcare. Allora amici miei, il settore della salute, della cura della persona che generalmente viene indicato come healthcare è stato un settore che è tornato alla ribalta soprattutto dopo il covid ovviamente. Ha avuto un boost nel suo andamento, nelle sue performance veramente molto importanti ma la performance del settore healthcare in generale negli ultimi 30 anni non è solo dovuta a quello che è stato per esempio l'avvento della pandemia e l'enorme flusso di investimenti arrivati in questo settore per la pandemia stessa. I benefici del settore healthcare che possono essere portati al portafoglio vanno oltre quello che è successo durante la pandemia perché qualcuno potrebbe dire vabbè adesso abbiamo un po' di bias al seno di poi passata la pandemia non è che ogni anno dobbiamo osservare una pandemia per sperare che il settore healthcare vada bene. Ok, perfetto, ci stiamo. In realtà i trend positivi che gli analisti studiano sul settore healthcare sono diversi che potrebbero farci portare a prediligere questo settore di investimento all'interno dei nostri investimenti. Quali sono questi trend? Uno dei trend principali che sta aiutando il settore healthcare è sicuramente l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione è un tema di investimento. Anche l'aumento della popolazione, se puoi così dire, fondamentalmente potrebbe essere d'aiuto al settore healthcare ma l'invecchiamento della popolazione e il fatto che noi tendiamo a vivere sempre di più è un tema fondamentale. Soprattutto nelle economie sviluppate, nelle economie occidentali poi soprattutto nelle economie occidentali noi tendiamo ad avere un grande problema ovvero sia più tempo viviamo e più aumenta l'incidenza di quelli che possono essere i tumori. Il nostro stile di vita cambia e siamo sempre più sedentari quindi abbiamo anche sempre più problemi legati all'obesità al fatto di essere sedentari per l'appunto come dicevamo prima l'obesità è la più grave malattia in America questo lo sappiamo bene ma tecnicamente più tempo viviamo questo è un concetto probabilistico non mi voglio poi lanciare in analisi mediche ma da un punto di vista probabilistico più tempo viviamo e più abbiamo rischi di ammalarci ma la cura della persona, la cura della salute soprattutto nelle economie occidentali ma non solo riveste oggi nelle società moderne sviluppate un elemento centrale ci sono tutti questi trend che stanno aiutando il settore healthcare al di là della pandemia attenzione il problema fondamentale amici miei adesso vi ho fatto un'introduzione molto ampia sul perché dovremmo investire in un determinato settore studiando i trend macroeconomici il problema fondamentale è che se crediamo all'efficienza dei mercati questa caratteristica del settore healthcare dovrebbe essere già scontata nei prezzi e infatti se io prendo qui un MCI World Healthcare oggi abbiamo un price to earnings di 25 punti contro 22 punti dell'MCI World questo significa che le azioni healthcare costano molto di più dell'MCI World questo perché perché comunque il mercato già sconta al suo interno questi principi questi trend che vi ho già detto amici se crediamo all'efficienza dei mercati dobbiamo essere consapevoli del fatto che quello che noi andiamo ad analizzare in realtà già il mercato lo analizza cioè ci sono altri milioni di analisti che hanno fatto queste tipologie di valutazione e sono arrivate a queste tipologie di conclusioni quindi i prezzi si sono automaticamente hanno automaticamente inglobato queste informazioni e le stanno riflettendo e questa è quella che noi chiamiamo generalmente efficienza forte efficienza dei mercati finanziari che poi sappiamo l'abbiamo detto mille volte non può essere piena per il paradosso di Grossman Stiglitz ma sappiamo essere abbastanza forte quindi quello che noi abbiamo detto sul settore healthcare è già scontato dai mercati e questo succede sempre in qualsiasi altro settore cioè amici miei il settore dell'information technology il settore dell'intelligenza artificiale che oggi va tantissimo di moda e tantissimi investitori si stanno lanciando perché sarà il futuro ok sarà il futuro ma il mercato lo sta già scontando infatti ci fa pagare le azioni sull'intelligenza artificiale molto di più di quello che è molto più della media ok perché? perché si ipotizza avranno tassi di crescita più elevati ricavi meno rischiose e quant'altro infatti costano dieci volte di più di azioni per così dire più alcune volte si parla di azioni più noiose per l'appunto i settori più noiosi queste cose il mercato le sa il problema fondamentale amici miei se volete battere il mercato che dovete fare delle valutazioni che il mercato non sconta e quindi vi ho io ingannato per quanto riguarda il titolo del nostro video no perché arriveremo adesso all'analisi del perché il settore healthcare con un altro settore di investimento potrebbe essere considerato nei vostri investimenti il problema degli investimenti settoriali che io sconsiglio sempre ai miei clienti così come anche gli investimenti tematici è che noi oggi non abbiamo elementi per prevedere i ricavi futuri delle aziende di quel determinato settore cioè ci possiamo poi fare tutte le analisi che vogliamo sui trend che stanno colpendo l'economia che stanno interessando l'economia ma noi non possiamo fare delle previsioni e non abbiamo elementi per prevedere l'andamento di quei ricavi i settori così come anche i temi di investimento non sono fattori di rischio su cui invece abbiamo degli elementi di prevedibilità dell'andamento dei ricavi e abbiamo degli elementi di prevedibilità su quelli che possono essere i premi per il rischio ecco perché i nostri portafogli azionari non andrebbero costruiti a partire dai settori di investimento e non andrebbero costruiti tantomeno sui temi di investimento cioè quanti vi provano a vendere l'ETF tematico il fondo tematico su qualsiasi tema di investimento l'acqua, l'intelligenza artificiale l'aging, quindi l'invecchiamento della popolazione a cui è connesso l'healthcare e settori particolari cioè tutti questi portafogli di investimento si trasformano in scommesse perché manca un elemento di prevedibilità mentre se noi ci spostiamo sui fattori di rischio abbiamo altri, completamente altri strumenti per costruire un portafoglio azionario che differenza c'è nel settore healthcare su cui si basa questo video oppure un altro settore molto interessante per costruire un portafoglio che è il settore dei consumer staples che differenza c'è? che noi introduciamo nel settore healthcare e consumer staples un elemento di prevedibilità qual è questo elemento di prevedibilità? perdone amici miei ho bisogno di uno stop questa mattina perché dopo tante call mi comincia a piascicare comincia a mangiarmi le parole qual è questo elemento di prevedibilità? il fatto che in un momento di crisi le azioni del settore healthcare e le azioni del settore dei consumer staples beni di prima necessità fondamentalmente offrono e soffrono dei drawdown molto bassi molto più bassi dell'azionario mondiale se andiamo ad analizzare i dati infatti il massimo drawdown del settore healthcare negli ultimi 30 anni è stato del 38% contro il 57% dell'azionario mondiale parliamo di 20 punti di differenza sono un'enormità sui mercati finanziari poi abbiamo avuto anche un rendimento maggiore ma questo non lo possiamo sapere attenzione questa è la differenza fondamentale stessa cosa con i consumer staples non lo possiamo sapere se avranno un rendimento maggiore quindi se noi investiamo nel settore healthcare sperando di avere un rendimento maggiore stiamo sostanzialmente scommettendo perché tra l'altro stiamo andando con perché abbiamo già detto che i trend positivi del settore healthcare sono già scontati nei prezzi il mercato già ci sta facendo pagare di più queste azioni della media quindi tendenzialmente se prezzi e rendimenti sono inversamente correlati dovremmo ottenere un rendimento più basso del mercato tecnicamente il fatto che noi prevediamo investiamo in questo settore prevedendo un rendimento più alto significa che stiamo facendo sostanzialmente una scommessa che non si basa su dati oggettivi questo è il problema se invece noi inseriamo questo strumento finanziario perché ha dei minori drawdown e questo lo possiamo prevedere perché? perché quando un'azienda vende beni di prima necessità come il settore healthcare o i consumer staples ecco perché introduciamo anche questo settore in una crisi soffre un minore calo dei ricavi capite? e quindi è normale che soffrirà un minore drawdown cioè non sappiamo il livello del drawdown sappiamo che sarà più basso di un azionario globale ad esempio o di un azionario più rischioso e quindi possiamo anche stimare considerando i rendimenti marginali decrescenti anche un maggiore premio per il rischio ok? quindi se li mettiamo con questi obiettivi in portafoglio allora potrebbero avere senso in che tipologie di portafoglio possono avere senso? in che tipologie di portafoglio li consiglio ai miei clienti? in che tipologie di portafoglio non hanno senso? hanno senso in quei portafogli che mancano di efficienza a causa della forte presenza di azioni ricordatevi che quando noi investiamo i rendimenti marginali sono sempre decrescenti questo significa che abbiamo sempre bisogno di maggiore rischio per aggiungere il rendimento cioè noi dobbiamo sempre aggiungere unità di rischio maggiori per ottenere il rendimento infatti i rendimenti marginali sono decrescenti ok? se noi abbiamo tanto azionario, superiamo il 60, 70, 80% la nostra efficienza diminuisce sempre di più prendetevi l'indice di sharp di un azionario di un semplice azionario è minore di un portafoglio diversificato per quello che dicevamo prima allora può avere senso in un portafoglio con molte azioni introdurre questi due settori che dovrebbero migliorare il premio per il rischio in un portafoglio invece tra l'altro vi riducono il drawdown senza dover passare per esempio strumenti obbligati senza che voi accettiate i costi e opportunità di strumenti obbligazionari in portafogli invece multi asset come può essere un portafoglio low weather il loro beneficio può essere molto meno forte perché come dicevamo precedentemente l'efficienza, rischio e rendimento noi la raggiungiamo con altri strumenti è molto molto importante capire la differenza del inserisco questo settore o questo tema perché crescerà più degli altri inserisco questo settore o tema di investimento perché faccio altri tipi di valutazioni io vi ringrazio per aver seguito questo nuovo episodio sul canale iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao